Al Centro Giovani di Monfalcone per lo sport ci insegna con la Presidente della Fondazione Pietro Pittini, Marina Pittini, a cui chiedo quando nasce, come nasce e di cosa si occupa la Fondazione. La Fondazione nasce tanti anni fa, però si apre al territorio coi giovani solo due anni fa, nel 2017, quando io decido di dedicarmici a tempo pieno. E siamo dedicati ai giovani, quindi disegniamo progetti per sostenerli, per riscattarli, sostenerli, migliorare le competenze e quant'altro. Questo è un progetto dedicato allo sport, nelle scuole secondarie di primo grado, siamo già presenti in nove scuole del Friuli Venezia Giulia. Intendiamo utilizzare i valori positivi dello sport per sostenere la crescita, sia da un punto di vista fisico, per migliorare la salute, ma soprattutto e anche da un punto di vista di valori, di rispetto delle regole, di disciplina. Quindi vogliamo dare un contributo e lo stiamo facendo piano piano, crescendo sul territorio lentamente. Però è un progetto su cui io credo molto, perché penso che lo sport sia assolutamente necessario, soprattutto per i giovani.